Lunedì 25 aprile il triathlon pavese, il settore sport del comune, organizzano per la prima volta a Pavia la prima inedita edizione del Pavia Triathlon Day. Ritrovo presso la piscina comunale di via Forperti, mentre il campo di gara sarà prevalentemente all'interno del parco della Vernavola con addirittura due competizioni. Alle ore 11 partirà il primo duathlon città di Pavia che prevede 3 km di corsa, 14 km di mountain bike e 1,5 km di corsa, mentre alle ore 14 sarà il turno del primo triathlon città di Pavia con 750 metri di nuoto, 14 km di mountain bike e 5 km di corsa. Insomma Pavia Triathlon Day un vero e proprio giorno di festa e di sport all'insegna della totale sicurezza con percorsi chiusi al traffico e immersi nel polmone verde cittadino del parco della Vernavola.